Musica Incontri chiarificatori, comunicati stampa e nuove e possibili alleanze ma ancora appese ad un filo. Tanti nodi da sciogliere nel grande scacchiere politico che questa primavera coinvolgerà anche il comune di Modica che insieme a Ragusa, Cate e Comiso si prepara alle prossime amministrative. Tutti i partiti sono già al lavoro da tempo e con il trascorrere delle settimane si inizia a passare dagli incontri stretti a quelli aperti anche a tutti i tesserati. Periodo anche fortemente caratterizzato dai rumors e dai tanti nomi sulla bocca di tutti ma su cui ancora nessuno si sente di scommettere anche perché mai ufficializzati dai diretti interessati. E' il caso in queste ultime ore della candidatura a sindaco dell'attuale consigliere comunale d'opposizione Filippo Agosta. Nome che dovrebbe mettere d'accordo l'intero centro-sinistra Modicano anche se il condizionale è ancora d'obbligo visto che nulla è stato ufficializzato dal diretto interessato che non conferma ma nemmeno smentisce quanto appena dichiarato. Notizia che però inizia a circolare con una certa insistenza tra le figure coinvolte. A lui quindi l'arduo incarico del riscatto nulla è ancora dato sapere. Ancora poco convinto sul nome di Agosta e il Movimento 5 Stelle che per voce del capogruppo Marcello Medica dichiara non so chi ha messo in giro il nome del collega consigliere comunale Filippo Agosta a me non risulta e ogni modo il Movimento 5 Stelle di Modica continua a Medica ad oggi non ha ancora deciso se andare in un'eventuale coalizione o da solo come nelle passate elezioni. Se c'è una disponibilità di Agosta o di Medica o altri come emerso da interviste ovviamente ciò non vuol dire che vi sia anche una candidatura a sindaco di tali personalità. Inoltre abbiamo già programmato una seconda assemblea pubblica domani sera con all'ordine del giorno proprio tale punto. Tutto a conferma che il nome di Agosta attualmente risiede solo sul piano delle sole ipotesi magari utili a sedare reazioni e umori ma che nulla hanno a vedere con i prossimi movimenti politici. Ma dei rumors si passa anche fatti con il primo vero incontro di Fratelli d'Italia che a Modica ha scelto il nome del possibile candidato. Un nome ancora segreto e da ufficializzare soltanto se non si arriverà a uno sperato accordo con l'intero centrodestra che significa mettere attorno allo stesso tavolo oltre Fratelli d'Italia anche la Lega e la Nuova DC. Alla presenza del senatore Salvo Salemi il partito meloniano ha quindi mosso i primi passi ufficiali durante la riunione del coordinamento cittadino. Obiettivo quello di fare il punto sulle future sfide politiche a Modica e programmare anche un piano B nel caso salti l'accordo con le altre forze di centrodestra. Piano B che quindi prevede già un nome ben conservato nel cassetto segno di voler accelerare i tempi e farsi trovare pronti agli elettori con idee chiare su candidati e programmi politici. L'augurio però principe di Fratelli d'Italia resta però quello di riuscire a trovare la quadra con le altre forze politiche della collezione di centrodestra così come è accaduto durante anche le passate elezioni regionali e politiche. Tragedia evitata e fortunatamente solo due settimane di prognosi per il trentenne operaio ferito ieri in un incidente sul lavoro al mercato ortofrutticolo di Vittoria. Una pedana carica di zucchine, lo ricordiamo, del peso di almeno una tonnellata gli è caduta addosso. L'uomo è stato subito soccorso dai suoi colleghi di lavoro e trasportato in ospedale al Guzzardi di Vittoria dove ha riportato ferite e lesioni. L'incidente si è verificato intorno alle 7 di mattina e stando a quanto è stato ricostruito finora le cassette di zucchine si trovavano su un carrello elevatore utilizzato per il trasporto della merce all'interno del mercato e per caricarla sui tir che la trasportano verso i mercati del Nord Italia. Pare che l'incidente sia stato causato anche dall'asfalto di se stato che ha fatto inclinare il carrello causando la caduta delle cassette cariche di ortaggi. Il giovane operaio ha cercato di evitare il peggio e di impedire la caduta del carico ma è stato travolto dalle cassette. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e gli uomini del servizio prevenzione e degli ambienti di lavoro di Ragusa. Si tratta del secondo incidente sul lavoro nell'arco di 24 ore sempre a Vittoria. Lunedì infatti quello che è costato la vita annuncio Caggia muratore in pensione di 69 anni caduto dal tetto di un'abitazione dove stava effettuando un sopralluogo per infiltrazioni d'acqua. L'uomo improvvisamente è precipitato nel vuoto dal secondo piano dell'edificio in costruzione in via Cristoforo Colombo. Sulla vicenda è anche intervenuto il sindacato CGL che per voce del segretario provinciale Peppe Scifo si dice preoccupato per l'elevato numero di incidenti anche mortali che continua a verificarsi in provincia di Ragusa. Restiamo in attesa, ha commentato Scifo, di conoscere la vera natura dell'incidente a Vittoria ovvero se si può parlare di tragedia sul lavoro oppure ci si trova di fronte a un incidente domestico. Quello che però si può subito notare che purtroppo continua Scifo in Italia ci si trova con un sistema pensionistico che non consente tanta flessibilità in uscita costringendo diverse persone a dover lavorare anche saltuariamente fino a età avanzata. Per quanto riguarda infine il mercato invece c'è da sottolineare che gli incidenti sembrano piuttosto frequenti e manca anche un piano di sicurezza che imponga agli operatori di lavorare nelle giuste condizioni. La dirigenza generale dell'ASPA ha pubblicato in queste ore tre differenti provvedimenti con cui si cerca di ovviare problemi più volte segnalati che riguardano da vicino il reparto di pediatria al Giovanni Paolo II di Ragusa. In pratica a fermare il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Ragusa Sergio Fininceli sono stati già reclutati due dirigenti medici e in più sono stati pubblicati due bandi uno per incariche a tempo indeterminato e l'altro per assunzione a tempo indeterminato per rinfoltire l'organico del reparto così da fare in modo che lo stesso possa diventare operativa o il prima possibile. Insomma, sembra esserci, continua ai Fininceli, tutta la volontà politica da parte dell'ASPA di arrivare a una soluzione essenziale, ricorda, la meritoria azione di sensibilizzazione portata avanti dal basso dalle mamme del comitato riaprite pediatria a Ragusa e al pressing politico esercitato da movimenti come il nostro che sono sempre rimasti sul pezzo con l'auspicio che qualcosa potesse mettersi in moto. Certo, ci è voluto molto tempo, tuttavia ora speriamo che si possa recuperare il tempo perduto. Con i tre provvedimenti assunti dall'azienda sanitaria provinciale c'è il chiaro intento di colmare tutti quei vuoti che finora hanno impedito al reparto del capoluogo di poter operare nella maniera più opportuna e adeguata. Naturalmente speriamo, conclude il capogruppo del MoVimento 5 Stelle, che questi provvedimenti possano sortire già nel breve periodo l'effetto desiderato e che al di là dei due medici già incaricati che certamente potranno contribuire a assicurare continuità H24 all'ambulatorio, altri possano rispondere in maniera positiva ai bandi di selezione del personale al fine di riaprire definitivamente il reparto di pediatria a Ragusa. Impedire ad ogni costo la realizzazione di uno scempio senza fine, ovvero la costruzione di un enorme parco eolico in mare lungo la costa che da Pozzallo arriva a Marina di Ragusa. E in sintesi il contenuto dell'ordine del giorno presentato dal deputato regionale della Dicinia Ziavate per scongiurare quello che sembra palesarsi all'orizzonte, ovvero l'installazione di 214 pale eoliche dell'altezza di circa 220 metri che per almeno 40 anni rovineranno uno dei più bei panorami marittimi italiani. Ho chiesto espressamente l'intervento del presidente della regione e dell'assessore all'energia perché siamo ancora in tempo a fermare questo attentato all'economia del territorio ebreo. Il turismo, una delle fonti principali del comparto economico della provincia di Ragusa, subirebbe un durissimo contraccolpo dalla creazione di un mostro del genere che ci toglierebbe per sempre scorci paesaggistici unici nel loro genere. Il nostro territorio paga già un prezzo altissimo, ovvero il rischio di ospitare a pochi chilometri di distanza dalla costa la piattaforma petrolifera. Non possiamo tollerare che a essa si aggiunga anche questo mastodontico parco eolico della grandezza di oltre 93 chilometri quadrati. Sull'argomento era anche intervenuto l'ex deputato Razio Ragusa chiedendo concertazione su scelte ancora una volta calate dall'alto. Pur non avendo più un ruolo attivo, afferma Ragusa, ritengo opportuno che si faccia qualcosa e che ci si muova lungo la direzione che secondo molti dovrebbe essere quella più adeguata facendo sì che il territorio possa avviare un confronto con chi intende utilizzare il nostro mare per trarne profitti sebbene ciò accadrà anche attraverso l'utilizzo di energia pulita. Non possiamo correre il rischio ancora una volta così come è accaduto in altre circostanze di rimanere spettatori di un simile cambiamento epocale senza riscontri specifici per la nostra provincia che mette a disposizione il proprio habitat. Ecco perché, ritengo, conclude Ragusa, sia opportuno fare sentire ancora una volta la propria voce. C'è ancora una manciata dei giorni e poi il 10 febbraio alle 14 scadrà il termine per presentare la propria candidatura al progetto di servizio civile Vita Inclusiva, un progetto su cui Anfa si crede molto e che a Modica da circa 20 anni gestisce con un centro socioeducativo per persone con disabilità intellettiva e del neurosviluppo un anno da dedicare agli altri quindi, ma anche a se stessi mettendo alla prova le proprie capacità e imparandone di nuovo in un contesto giovanile stimolante in cui i volontari di servizio civile non sono considerati veri e proprie risorse. Spesso, infatti, quando pensiamo alle persone con disabilità sottolinea l'Anfas lo facciamo con un po' di pietismo e quindi sembra normale che pensare di passare un anno al loro fianco faccia pensare a attività puramente assistenziali in realtà non è affatto così perché i nostri ragazzi si dedicano con entusiasmo al teatro, allo sport, alla musica e alle uscite inoltre molte attività che abbiamo strutturato sono nate proprio grazie all'iniziativa dei volontari di servizio civile che abbiamo avuto il piacere di ospitare e che anche ad esperienza conclusa si sono talmente legati alle persone conosciute qui dentro che hanno scelto di continuare a fare volontariato da noi Quello che vi chiediamo ai giovani dai 18 ai 28 anni di provare un'esperienza nuova per un anno con le persone con disabilità le nostre attività sono variegate sono tante e potete conoscere seriamente il mondo della disabilità in un modo diverso di come viene conosciuto le attività dell'associazione sono fantastiche come abbiamo pubblicato adesso vi diciamo di venire a conoscere il paese delle maraviglie e venire a conoscere il cappellaio matto e capire chi sarebbe il cappellaio matto presso l'ampas di Modica per la prossima il gruppo di Modica per la prossima Grazie a tutti